allora un quickie vedete quell'item lì sulla vostra destra come faccio a raggiungerlo bene qui siamo sempre stonevale castle del castello gran tempesta dovete procedere a saltare l'edge dall'altra parte avete un nemico che vi aggredisce alle spalle qui dietro l'angolo quindi attenzione sono già tutti morti ovviamente li ho già uccisi andate avanti altro nemico ora l'unico nemico che effettivamente pone un problema è il nemico successivo una volta salita la rampa di scale alla fine della rampa c'è un cavaliere tipico maschio alfa molto difficile da battere se siete all'inizio del gioco come immagino potete farlo cadere nel buco come sempre quando avete accoppiato buco cavaliere in dark souls normalmente potete farlo a partire da dark souls 2 dove c'era un boss a un certo punto che poteva cadere nel buco bene ora guardate di sotto non si vede perché dovete gettarvi girare intorno alla torre e avete raggiunto il vostro item che non è nulla di così incredibile ma che può essere utile per il crafting soprattutto per classi guerriere che si concentrano sul corpo a corpo alla prossima